La semplice mobilizzazione nel piano trasversale con un esercizio di attivazione neuromuscolare adesso possiamo passare a un esercizio di resistenza per allenare la muscolatura. Abbiamo spostato il punto di sospensione all'indietro. Adesso è in un punto dove il movimento sarà più morbido. Abbiamo usato anche degli elastici, il che rende più difficile per il paziente stabilizzare la pelvi. Possiamo usare il controllo neuromuscolare che abbiamo già acquisito e possiamo trasformare questo esercizio in un esercizio resistivo in maniera molto semplice. Ma andiamo un po' giù, il paziente è sollevato e possiamo chiedere di andare a destra e poi mantenere, mantenere, perché adesso si muoverà all'insù contro la gravità per poi riabbassarsi. E poi si può andare dall'altra parte e premere qui, premere contro questo elastico e mantenere, mantenere, mantenere e ritornare. Più difficile di prima, vero? Ok, torniamo lì, manteniamo l'equilibrio usando la resistenza degli elastici. Perfetto, molto bene, mantieni, mantieni, mantieni e poi torniamo indietro. Questo solo per dimostrare i differenti tipi di esercizi che possiamo fare con una singola, semplice impostazione. Ci sono molte cose che possiamo fare per tutti i tipi di giunture e di patologie. Vi è una pletora di esercizi usando la combinazione del lettino mito per rendere il nostro lavoro più facile e per inventare questi esercizi terapeutici meravigliosi.